Noi siamo convinti che la guerra si vince sul territorio e non all'interno degli ospedali, per cui per vincere questa guerra dobbiamo dotare le USCA di tutti gli strumenti idonei per fare una diagnosi precoce e soprattutto evitare un iperafflusso di pazienti all'interno degli ospedali e dei dipartimenti di emergenza e urgenza. Abbiamo fortemente voluto, io come referente del Senato regionale, l'acquisto di numeri di ecografi sufficienti, cioè 30 per tutte le USCA e ho nominato il dottor Iannetti, che è il presidente della più importante società di ultrasonografia italiana, cioè la SIUM, perché coordinasse questa operazione. Noi siamo la prima regione in Italia che ha attivato a livello di tutte le USCA questa metodica ecografica e contemporaneamente stanno partendo adesso le Marche e l'Emilia Romagna. Quindi siamo orgogliosi di aver messo in campo questa risposta che veramente ci consente di diminuire la flusso e soprattutto curare meglio. Devo dire che quando Alberto Albani mi ha chiesto di interessarmi della problematica della diagnosi della polmonite covid relata a domicilio, ho subito accolto con entusiasmo perché in effetti l'ecografia è un mezzo molto potente, specialmente nelle fasi iniziali, per poter capire se il paziente intanto non ha la polmonite, quindi è psicologicamente molto importante, o se questa polmonite può essere curata a casa o se altrimenti bisogna andare in ospedale, proprio sia per evitare il sovraffollamento ma anche per il benessere psicologico del paziente. Da il mese di dicembre abbiamo iniziato con la provincia dell'Aquila e abbiamo formato tutti i giovani colleghi delle USCA, i quali hanno la possibilità di inviare sia tramite WhatsApp delle brevi clip a un centro di riferimento e alla fine a me, o hanno la possibilità di inviare poi i referti degli esami ecografici ad un web comune in tutta la regione. Questo peraltro permetterà di avere dei dati importanti in tutta la regione nei pazienti che sono stati esaminati in questo modo.